Restiamo in qualche modo in ambito scolastico, perché è stato presentato oggi al Parazzo della Regione a Udine un nuovo strumento volto a favorire proprio l'inserimento della lingua friulana a scuola, si chiama Lenghis. È presentato dunque un nuovo sito che permetterà al meglio di apprendere la lingua friulana, ma non solo. No, non solo, si tratta del sito lenghis.me, che è ovviamente online e può essere fruibile da tutti, non solo dalle scuole e quindi ogni persona che desidera acculturarsi sia sulla lingua friulana che sui concetti appunto della lingua friulana può tranquillamente andare a visitarlo e a scoprirlo. Anche in lingua inglese e italiana, oltre che friulana, dunque il plurilinguismo al centro dell'interesse. Sì, è importante questo plurilinguismo perché dà la lingua friulana la stessa nobiltà e importanza che è giusto che abbia con le altre lingue e lo colloca all'interno del sito sia l'italiano che con l'inglese e c'è anche una nuova sezione in neogreco. Tantissimi contenuti e un sito interattivo. Sì, è un sito interattivo, ci sarà anche la possibilità per gli insegnanti eventualmente di contribuire con delle schede specifiche che possono proporre e poi verranno validate.